In primo piano nel nostro Tg la politica dopo l'esito delle consultazioni del 4 marzo il Movimento 5 Stelle chiede una presa d'atto della disfatta al PD al presidente della regione Marcello Pittella. I primi effetti del voto si ripercuotono su Fratelli d'Italia con il consigliere regionale Gianni Rosa che pur sorridendo per il dato conseguito annuncia le dimissioni da coordinatore del partito. Domani 8 marzo in occasione della festa della donna gli ospedali di Potenza e Matera così come avviene su tutto il territorio nazionale promuoveranno iniziative in Rosa. Nel nostro spazio dedicato allo sport parleremo dell'impresa del materano Antonio Trevisani. L'atleta paralimpico ha conquistato una medaglia di bronzo nella prova di arrampicata sportiva in Coppa Italia. Nuovo appuntamento con la stagione dei Teatri Uniti di Basilicata stasera al Don Bosco di Potenza in scena 2 una produzione Enfi Teatro con Raul Bova e Chiara Francini. Sipario alle 21. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv. Lo avete sentito dai titoli. In primo piano nel nostro Tg di oggi c'è la politica dopo l'esito delle consultazioni del 4 marzo. Il Movimento 5 Stelle chiede una presa d'atto della disfatta al PD e al Presidente della Regione Marcello Pittella. Ma sentiamo Mara Risola. La Terza Repubblica è iniziata anche in Basilicata. Dopo il risultato stravolgente delle elezioni nazionali adesso il Movimento 5 Stelle Lucano punta dritto alla conquista del governo della Regione. Per completare come dicono l'opera di smantellamento di un sistema al collasso operato dal Partito Democratico. Così commenta il risultato del 4 marzo la parlamentare dei 5 Stelle, Mirella Liuzzi, riconfermata a Montecitorio dal voto di domenica. Per abbattere completamente il sistema clientelare bisogna anche vincere le elezioni basilicate. Il Movimento 5 Stelle è pronto anche per questa sfida e chiediamo anche al Partito Democratico che ne prenda atto innanzitutto lui perché deve porre fine a questa agonia, soprattutto per loro perché rischiano di arrivare anche a meno del 10% se continuano così. Quindi ci aspettiamo una presa d'azio innanzitutto dal Presidente Marcello Pitella di queste elezioni e del fallimento delle politiche del Partito Democratico. A Roma la chiamano la morte dell'anzian regime. Al sud in Basilicata invece il primo passo verso quella che loro definiscono la Terza Repubblica. Io credo che i Lucani di fronte all'ennesime candidature di personaggi che sono in politica da 30 anni abbiano voluto dare un segnale molto forte e io li ringrazio perché davvero ci sono stati vicini in questa situazione di campagna elettorale e sappiamo che noi hanno molte speranze. Noi vediamo la speranza negli occhi dei cittadini verso la forza del Movimento 5 Stelle. E questo chiaramente ci dà molta emozione ma anche molta sensibilità. La Terza Repubblica è iniziata, quindi la Terza Repubblica inizia anche qui in Basilicata e sarà la Terza Repubblica dei cittadini. E i primi effetti del voto si ripercuotono su Fratelli d'Italia con il consigliere regionale Gianni Rosa che annuncia le dimissioni da coordinatore del partito. Sentiamo Michelangelo Russo. Un risultato positivo seppur con un piccolo incremento. Nel centrodestra Lucano il dato di Fratelli d'Italia fa sorridere il consigliere regionale Gianni Rosa ma spiega lui stesso il partito è maturo per darsi una strutturazione politica dimostrando di avere una classe dirigente pronta ad assumere un ruolo di primo piano nella politica regionale nazionale. Poche parole per chiudere qui l'esperienza di coordinatore regionale e voltare pagina. Prendiamo atto aggiunge che il voto in Basilicata è stato influenzato dalle dinamiche nazionali come giusto trattandosi di elezioni politiche e dal voto di opinione che ha spinto gli animi esasperati dei cittadini verso posizioni più estremiste. Al contempo nonostante Fratelli d'Italia abbia tenuto più di altri partiti incrementando la propria percentuale passando dal 2,3 alla Camera delle politiche 2013 al 3,7 e dal 2,4 al Senato al 3,7 ho ritenuto opportuno spiega ancora Rosa rassegnare le mie dimissioni da coordinatore regionale. Il partito regione è stato abbattuto finalmente ma il centrodestra che conferma il proprio elettorato ha dimostrato di non essere polo attrattivo sufficiente a guidare la regione. Per questo ci impegneremo ancora di più a dimostrare che oltre il disfattismo dei 5 Stelle c'è di più. Poi un appello a Pasquale Pepe eletto nella Lega. Il nostro partito non è decisamente una frattaglia come sa bene ed è grazie ai 10.628 nostri elettori che adesso andrà a rappresentare la Basilicata in Senato. Continueremo come sempre nella nostra azione politica cercando di creare un centrodestra unitario alternativo al centrosinistra e ai 5 Stelle. Non solo l'esploat dei 5 Stelle e il flop del PD nel prossimo servizio con Alessandro Panuccio. Vediamo come è andata l'ultima tornata elettorale per i partiti più piccoli. Un movimento 5 Stelle cannibale. Ai piccoli partiti non restano che le briciole anche nelle coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Se la Lega merita un discorso a parte e comunque fa meglio di Fratelli d'Italia doppiandola, gli altri sono quasi non pervenuti. In un centrodestra che viaggia attorno al 26%, l'ala democristiano-cattolica fa meglio del dato nazionale ma si ferma al 2,5% malgrado l'onorevole elatronico. Se i fittiani deludono non ridono gli alleati del PD che non riescono a limitare i danni. In tre arriva a Stento al 4%, a Bonino si ferma al Senato 1,4%. Risultati in fotocopia per la civica popolare Lorenzin e insieme dove confluivano i socialisti Verdi e Radicale Bolognetti. Ancora peggio alla Camera dove il candidato all'uninominale del PD viceconte non convince l'elettorato e gli alleati. Insieme assomano un misero 3,8%. Un cambio di casacca che non è piaciuto agli elettori lucani dopo un passato nel PDL con i centristi. Tra i piccoli partiti si salva potere al popolo, l'unico a superare l'1%. Sfiorati 4.000 voti alla Camera e al Senato. A sorpresa dietro c'è il Casa Pound sulla soglia dei 2.000 voti tra le due Camere con lo 0,65%. Leggermente sotto il Popolo della Famiglia con lo 0,6%. Male il Partito Comunista che resta sotto il mezzo punto percentuale. Viaggiano attorno allo 0,25% il Partito Valore Umano. Il Blocco Nazionale per le Libertà è 10 volte meglio. Chiudono con lo 0,2% la lista del Popolo per la Costituzione del Tenente Di Bello è per una sinistra rivoluzionaria. Siamo alla cronaca. A Scanzano un uomo è stato arrestato per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e violenza privata. Al termine di un litigio con la moglie, al seguito del quale la donna aveva deciso di andare via di casa, l'uomo le ha sequestrato telefono e chiavi dell'appartamento impedendole di uscire. La donna però è riuscita a contattare il 112. I carabinieri giunti sul posto hanno più volte invitato ad aprire la porta di casa fin quando percependo un forte odore di gas hanno fatto irruzione nell'appartamento. L'uomo è stato disarmato e immobilizzato da uno dei militari mentre un altro ha chiuso il gas lasciato intenzionalmente aperto. Nel corso delle operazioni sono stati sottoposti a sequestro tre bombole di gas, tre accendini ed un coltello da cucina con lama di 15 centimetri. Ancora cronaca, si terrà nel primo pomeriggio a Potenza il processo per direttissima carico del quarantenne arrestato con le accuse di lesioni personali, minaccia e danneggiamento aggravati dopo che nella serata di lunedì ha cercato di sfondare con la sua automobile la vetrina di un bar situato sotto un porticato di Viale Firenze e il cui proprietario si era rifiutato di dargli da bere. Sottoposto all'alcol test e al drug test, l'uomo lo ricordiamo è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito ed è risultato positivo anche all'assunzione di sostanze stupefacenti. Durante il tentativo del quarantenne di entrare nel bar con l'auto un avventore è rimasto ferito in maniera lieve mentre il proprietario è riuscito a non farsi colpire. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Nuova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Oggi principalmente Global Service allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni via della tecnica 24 80 500 Potenza 0971 19 40 572 info chiocciola global service sociale punto it. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg. Sono stati presentati oggi dal sindaco di Potenza Dario De Luca, dall'assessore all'ambiente Rocco Coviello e dall'amministratore unico di Acta Roberto Spera i risultati del nuovo servizio di raccolta differenziata nella città alla presenza di Francesco Pietrantuono, assessore all'ambiente Regione Basilicata e del presidente di Conai Giorgio Quagliuolo. Al 31 dicembre scorso Potenza ha raggiunto quota 61,45% di rifiuti raccolti in maniera separata per un totale di circa 13 mila tonnellate di rifiuti. Prima dell'introduzione del nuovo servizio la percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale non superava il 20%. Un contributo quello del Conai decisivo per ottenere risultati davvero importanti soprattutto se si pensa alla particolare conformazione della nostra città e alla distribuzione della popolazione su una superficie così ampia, ha dichiarato il sindaco Dario De Luca. Una vera e propria rivoluzione culturale prima ancora che di strutture uomini e mezzi che i cittadini di Potenza hanno fatto propria, peraltro contribuendo in maniera determinante alla riuscita complessiva del progetto. Torneremo sull'argomento nelle prossime edizioni del Tg. Domani 8 marzo in occasione della festa della donna gli ospedali di Potenza e Matera così come avviene su tutto il territorio nazionale promuoveranno iniziative in rosa. Sentiamo. L'8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione di agnosi e cura in ginecologia con un focus speciale sui fibromi uterini. L'iniziativa è promossa da Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna di genere con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia. A San Carlo di Potenza, in programma dalle 12 alle 14, nella sala A della palazzina Uffici, la prima edizione di Miomi, compagni di strada, un focus sui fibromi uterini. E la festa della donna coincide con un altro importante appuntamento, la giornata mondiale del Rene. Per l'occasione, dalle 9 alle 13, al piano terra dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il personale medico ed infermieristico dell'unità operativa di nefrologia e dialisi e del centro regionale trapianti, resterà a disposizione per offrire alla cittadinanza controlli gratuiti delle urine, la misurazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e una visita nefrologica, mentre i soci ANED, l'Associazione Nazionale Modializzati Dialisi e Trapianto, ONLUS, distribuiranno Depliant e altro materiale informativo. E torniamo alla cronaca perché a Castelluccio e inferiore i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, con la collaborazione di quelli della locale stazione, hanno sottoposto a sequestro nell'abitazione di un 59enne una cassaforte morto probabilmente sradicata da un muro contenente la somma contante di 340 mila euro. Sono in corso indagini per tracciare e stabilire la provenienza del denaro. E passiamo alla cronaca sindacale. Ieri il presidio davanti alla Regione Basilicata a Potenza dei lavoratori degli appalti pubblici con contratto metalmeccanico che svolgono attività di manutenzione nella sanità e negli enti locali. Dalla Regione arriva la promessa di istituire una task force. Sentiamo Celestino Benedetto. Negli ultimi mesi i lavoratori del CUP e quelli che svolgono attività di manutenzione, conduzione di impianti elettrici e termici nella sanità, si sono trovati a dover fare i conti con la riduzione dell'orario di lavoro, conseguente al taglio dei servizi e sovente al pagamento in ritardo degli stipendi. Ieri la protesta davanti alla Regione Basilicata. Al loro fianco i sindacati FIM, FIOM e WILM che hanno richiesto l'attivazione di un tavolo permanente con il potere di verificare le condizioni di lavoro di chi opera in appalto e per la contrattazione di quanto necessario alla tutela dei lavoratori nei capitolati e nelle gare. I dirigenti regionali, al termine dell'incontro, hanno assunto un primo impegno, quello di istituire una task force regionale sugli appalti in grado di predisporre dei protocolli preventivi così come previsto anche dal Codice in Materia, per rafforzare la clausola sociale a garanzia dei livelli occupazionali, per il rispetto del contratto nazionale di settore e per il mantenimento delle condizioni salariali di provenienza, tra cui anzianità e inquadramenti su tutti. Nei prossimi giorni i sindacati e Regione si incontreranno per la prosecuzione del confronto avviato. Intanto FIM, FIOM e WILM vigileranno affinché gli impegni presi siano rispettati. Per la giornata di domani è proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore a cui è aderito l'organizzazione sindacale USB di Basilicata. Pertanto nella nostra Regione i servizi ferroviari ed automobilistici saranno garantiti solo nelle fasce di garanzia, ossia dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. Potrebbero tuttavia non essere garantiti alcuni collegamenti ferroviari FAL-Bari-Potenza. Trovata dopo lunghi anni la soluzione per la bonifica della piattaforma di gestione dei rifiuti urbani di Lamartella a Matera. Nella conferenza di servizi tenutasi il lunedì scorso è stata raggiunta l'intesa per chiudere la fase istruttoria della procedura di valutazione di impatto ambientale finalizzata al rilascio dell'AIA. Nella riunione è stata stabilita la rimozione dei 53.000 metri cubi di rifiuti abbancati oltre dieci anni fa nei settori 3 e 4 della piattaforma, situazione che ha provocato la procedura comunitaria di infrazione la cui sanzione potrebbe gravare pesantemente sulla comunità materana. Il comune fa sapere il sindaco Raffaello De Ruggeri dispone di 3 milioni di euro con cui attuare non solo il progetto integrale di bonifica dell'intera area della Martella ma anche per risolvere i problemi di illegittimità presenti nella terza e quarta vasca in modo da contenere e neutralizzare l'infrazione comunitaria. E siamo allo sport, oggi parliamo dell'impresa del materano Antonio Trevisani, l'atleta paralimpico ha conquistato una medaglia di bronzo nella prova di arrampicata sportiva in Coppa Italia e si lancia alla conquista di un sogno, la nazionale e le Olimpiadi di Tokyo. Sentiamo Luigi Santopietro. Un terzo posto per dimostrare al mondo e dimostrare a se stesso di essere al top anche nell'arrampicata. Una medaglia di bronzo per arricchire il palmarès e puntare con convinzione al mondiale e perché no alle Olimpiadi. L'atleta paralimpico materano Antonio Trevisani conquista un prestigioso terzo posto nella seconda prova di paraclimbing svoltasi all'Expo di Bologna e organizzato dalla società Equilibrium confermando le buone sensazioni dell'ultimo periodo. Ce l'ho fatta nonostante i pochi allenamenti, ha commentato lo stesso Trevisani, che ora guarda al futuro con lo sguardo rivolto a Tokyo 2020. In Italia siamo solo in quattro che scalano con le braccia. La federazione ha bisogno di atleti con il nostro stato di disabilità per l'Olimpiade, dice Antonio Trevisani, che ha ben figurato al cospetto del campione del mondo Lorenzo Maio. Dal land bike a questa nuova disciplina, un passaggio tutto sommato naturale. Arrampicavo anche quando non ero in carrozzina tre anni fa, dice Trevisani. Alla finale del Giro d'Italia di hand bike a Milano ho visto una parete del CIP ed ho provato con successo. Il connubio tra arrampicata e bike è ottimo, allena gli stessi muscoli in maniera più intensa. Al momento però ha accantonato l'hand bike, ma probabilmente parteciperà al Giro di Basilicata in una bella esperienza con i ciclisti normodotati. Per il resto si dedicherà all'arrampicata, con il sogno di far parte della nazionale e di partecipare alla Paralimpiade del 2020 in Giappone. In chiusura alla pagina degli eventi, nuovo appuntamento con la stagione dei Teatri Uniti di Basilicata, stasera al Teatro Don Bosco di Potenza. In scena lo spettacolo 2, una produzione anfiteatro con Raul Bova e Chiara Francini. 2, del regista Luca Miniero, è una produzione anfiteatro. In scena due volti noti, Raul Bova e Chiara Francini. La scena è una stanza vuota, Marco è alle prese con il montaggio di un letto matrimoniale, Paola lo interroga sul loro futuro di coppia. Sapere oggi come sarà Marco fra vent'anni, questa è la sua pretesa. La diversa visione della vita insieme emerge prepotentemente nelle differenze fra maschile e femminile. Entrambi i due volti giovani evocheranno facce e personaggi del loro futuro e del loro passato. Genitori, amanti, figli, amici che come in tutte le coppie turberanno la loro serenità. Presenze interpretate dagli stessi due protagonisti che accompagneranno fisicamente in scena dei cartonati con le varie persone evocate dal loro dialogo. Alla fine il palco sarà popolato da tutte queste sagome e dai due attori. L'immagine è stilizzata di una vita di coppia reale, faticosa e a volte insensata, perché non sempre ci accorgiamo che in due siamo molti di più. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. La depressione presente sull'Europa centro-occidentale continua ad abbracciare anche la nostra penisola, mostrandosi ancora una volta più attiva sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche. Da domani però il graduale aumento della pressione favorirà un lento miglioramento che si farà più concreto durante il fine settimana. Sulla nostra regione avremo ancora condizioni di tempo piuttosto instabile sui versanti tirrenici e su parte della catena penninica, con ampie schiarite invece sulle zone orientali. Le piogge insisteranno sul lago negrese e in serata si estenderanno a buona parte della provincia di Potenza. La neve, in serata, potrà localmente scendere intorno ai mille metri di quota. Le temperature saranno in lieve calo nei valori minimi e stazionarie, o in lieve aumento in quelli massimi, con valori di poco al di sopra delle medie stagionali. A Potenza la minima sarà di 4 gradi, la massima di 10, a Matera la minima di 6, la massima di 15. I venti saranno ancora moderati, localmente forti e proverranno da ovest-sud-ovest. Il mar Tirreno sarà ancora molto mosso, lo Ionio risulterà mosso. Previsioni per domani. Il graduale aumento della pressione atmosferica circoscriverà gli episodi di maltempo essenzialmente sulle zone tirreniche, dove sono previste ancora piogge intermittenti e qualche nevicata in montagna. Sul resto della regione avremo una parziale nuvolosità, con possibilità di cielo sereno sulle zone orientali. Le temperature saranno in calo nei valori minimi.